Allora, Pupi che cerca? Mi state seguendo a un chilometro? E non credete quella che state guardate con il tempo? Perché? Per il tempo, cercate qualcun altro perché già sono impegnato. Ah, non so, ma usci! Ma che fai? Che fai con sta lente di ingrandimento? Che fai con sta lente di ingrandimento? Con sta lente di ingrandimento? Tu guardi da te pure così? Ti adoro! Ti adoro! Ti amo!